Nella storia della Repubblica italiana per la prima volta una direzione generale di servizi veterinari viene affidata ad una professionalità che non è una professionalità veterinaria ma di alta disciplina. Quindi per noi è una situazione importante da esaminare con attenzione e per la quale abbiamo concordemente assieme agli altri colleghi degli altri istituti isoprofilattici, dell'università, dell'istituto superiore di sanità, del sindacato dei veterinari di medicina pubblica veterinaria, dell'associazione nazionale dei medici veterinari e dell'Empaf abbiamo deciso di scrivere una lettera al ministro chiedendo di essere ascoltati per darci modo di manifestarle le nostre preoccupazioni e anche la nostra desolazione di fronte a una decapitazione delle strutture e delle competenze veterinari che storicamente erano all'interno del ministero da almeno più di 50 anni.